Sì, questa è un'opera imponente da 1.600.000 euro circa, che di fatto ci fa compiere un altro passo nella messa in sicurezza rispetto al rischio idraulico del nostro centro abitato, addirittura messa in sicurezza dalla piena duecentennale, che è ciò che prevede la normativa. Io le definisco le cosiddette opere silenziose perché la loro efficacia non si coglie subito nell'immediatezza, ma nel momento del bisogno. Magari per quanto concerne una piazza, una struttura sportiva è ovvio che la fruizione è immediata e quindi se ne percepisce il valore, ma qui ce n'è altrettanto, forse se non di più, perché vediamo anche in Regione Toscana quante sono le zone fragili da un punto di vista idraulico e i rischi che poi ci sono per le persone, per le aziende connessi quando purtroppo si verifica un evento naturalistico imponente. Questa di Terra Nuova è stata una scommessa importante perché i tempi di realizzazione dovevano essere necessariamente contenuti e quindi avere un milione e mezzo, un milione e 600 mila euro di lavori fatti, soprattutto adeguati alla piena duecentennale, quindi con un rischio idraulico valutato in termini consistenti, come oggi le norme ci impongono di fare, un risultato veramente importante, del quale siamo molto orgogliosi da una parte e grazie all'amministrazione per il lavoro che ha portato avanti. Terra Nuova si può dire sicuramente più sicura, non è in completa sicurezza, ma è più sicura. Una serie di interventi iniziati nel 2011 con gli interventi dell'asse di sondazione e boccatorata alla penna, oggi proseguono con questi interventi che abbiamo ultimato, speriamo nei prossimi due o tre anni di poter completare anche l'ultimo lotto, che è quello che riguarda la parte qui a Monte di ABB e a Valle verso l'ingresso in Arno. Con questi interventi abbiamo completato un'importante serie di investimenti sulla messa in soluzione del centro abitato, ma non vorrei dimenticare anche quello che stiamo completando, perché siamo prossimi nei prossimi giorni, due o tre settimane, completeremo anche l'intervento dell'asse di sondazione e boccatorata intorno a Poderirota sul torrente Riofi.